Fino a domenica 20 giugno tornano da Prezioso Casa gli attesissimi Open Days, un'intera settimana con i prezzi più convenienti dell'anno. Nei tre punti vendita del centro arredamenti, a cominciare dall'ultimo nato, quello di Torrette di Mercogliano, l'azienda diretta da Gaetano Ambrosca riserva ai suoi clienti 13 imperdibili promozioni. Prezioso Casa presenta per questi Open Days tutte le novità presenti al Salone Internazionale del Mobile che si terrà a settembre. Soprattutto sulle cucine ci sono novità importanti sia sul prodotto, sia sul design, ma soprattutto anche sulla tecnologia abbinata alle cucine. Una su tutte, ricorderei la Promo Start, sull'acquisto di un arredamento completo, la possibilità di ricevere in regalo TV da 55 pollici LG, un frigorifero da 75 cm Whirlpool, lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie. In questi giorni di Promo sempre consentito il giro libero per gli spazi espositivi, ma l'azienda consiglia la prenotazione per una maggiore attenzione da riservare ai clienti. Se venite con una prenotazione, è molto facile prenderla sul nostro sito preziosocasa.it, quando arrivate trovate già un arredatore libero che sa della vostra presenza, che già sa di che cosa avete bisogno, e quindi vi affidiamo per le vostre necessità il giusto arredatore. A poco più di un mese dall'inaugurazione, lo store in Irpinia già viaggia con numeri importanti nel solco di un'azienda numero uno in Europa nel settore. Rispetto alle nostre programmazioni, lo showroom sta ottenendo un grande successo, successo sia come visitatori, ma soprattutto anche come tipologie di prodotti che abbiamo presentato, quindi col design di preziosocasa.